In questo video vi andrò a mostrare come è possibile giocare a giochi della PlayStation 3 sul nostro computer. Esatto, in realtà è una cosa che è su internet da parecchio tempo, ma io l'ho scoperta solo da pochi giorni, e quando è successo ho detto, oddio è una cosa pazzesca. Si tratta di un emulatore ancora in fase alfa, quindi alcune cose devono essere sistemate, io comunque l'ho provato e funziona davvero, e quindi oggi in questo video ho deciso di mostrarvi come è possibile configurare il tutto, in modo che anche voi possiate giocare ai vostri titoli preferiti. Ma detto questo non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Ciao a tutti ragazzi, qua come sempre Fede Tutorial, e in questo canale pubblico video in ambito tech e tutorial come questo per computer e dispositivi iOS e Android. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, e abilitate soprattutto la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun aggiornamento dei prossimi video. Innanzitutto, prima di passare alla vera e propria fase sul nostro computer per vedere come si installa questo emulatore, vi consiglio di guardare i requisiti minimi e consigliati per poter lanciare perfettamente questo emulatore che trovate sul sito ufficiale. Il sito è come sempre qui sotto nella descrizione del video, oppure vi lascerò qui a screen anche i requisiti minimi e consigliati, quindi verificate di averli prima di passare alla fase di installazione. Comunque, sul mio computer, pur non essendo assolutamente da gaming, funziona perfettamente, e quindi andiamo subito a vedere come è possibile installarlo. Perfetto ragazzi, iniziamo quindi il nostro procedimento, come vedete io sono sul mio computer, con installato Windows 10, e la prima cosa che dovremmo fare ovviamente sarà quella di scaricare il nostro emulatore. Per farlo dovrete solamente cliccare il link che vi lascio qui sotto nella descrizione, che vi porterà in questa pagina. Questo sarà appunto il sito ufficiale del nostro emulatore, veramente fantastico. E innanzitutto la prima cosa che dovremmo fare sarà cliccare in alto dove c'è scritto download. Qui troveremo varie informazioni e dovremmo sempre scaricare l'ultima versione, come vedete eccola qui, latest build. Il download è disponibile sia per Windows che per Linux, in questo caso io vado ovviamente a scaricarlo per Windows. È in versione alfa, come potete anche vedere da qui, però funziona comunque già egregiamente. Ok, il pacchetto dell'emulatore come vedete si è già scaricato, a noi però servirà anche un altro file, ovvero quello del firmware della PS3. Possiamo trovarlo cliccando su quick start. Qui troviamo moltissime informazioni che ci serviranno, come anche i requisiti minimi di sistema e quelli consigliati, vi consiglio di guardarli. E poi scorrendo ancora un po' più in basso su firmware files troveremo questo link. Basterà cliccare su planestation.com e ci ritroveremo in automatico nella pagina del firmware della PS3. Anche qui scarichiamo sempre l'ultima versione cliccando su download now. Non preoccupatevi sia in inglese perché i giochi saranno comunque in italiano. Ok, una volta scaricati entrambi i file andiamo a fare un tasto destro sopra il pacchetto dell'emulatore. Ovviamente dovrete avere un programma come winrar oppure winzip per estrarre gli archivi. In questo caso io ho winrar, quindi vado a fare un tasto destro e andiamo a cliccare su estrai file in eccetera. Ci ritroveremo questa cartella con lo stesso identico nome del nostro archivio e all'interno troveremo tutti i file del nostro emulatore. Andiamo quindi a lanciare il nostro emulatore cliccando sull'unico file .exe all'interno della cartella, ovvero questo qui, rpcs3.exe. Andiamo a farci un doppio clic, mettiamo una spunta su I have read the quick start guide e poi se volete potete anche mettere una spunta qui per non mostrare più questo messaggio. E poi andiamo a cliccare su continua. Ok, ecco qua la nostra schermata principale. Innanzitutto clicchiamo su file e clicchiamo su install firmware. Da qui selezioniamo il nostro file di firmware che abbiamo appena scaricato che si trova su desktop ps3update.pup. Clicchiamo su apri ed ecco qui che in automatico lui installerà il software della ps3 sull'emulatore. Perfetto, installato con successo, clicchiamo su ok e una volta fatto questo vi consiglio di cliccare su configuration e poi system. Da qui possiamo cambiare vari settaggi per il nostro emulatore. Innanzitutto su console language vi consiglio di selezionare ovviamente italiano. Su CPU possiamo cambiare varie impostazioni, vi consiglio comunque di lasciare quelle automatiche che sono le migliori. Però anche qui come vedete se leggete la descrizione sottostante vi dice che se qualcosa non dovesse funzionare con quest'opzione potete cambiarla selezionando la seconda o la prima. A me come vi andrò a mostrare funziona tutto tranquillamente con la terza quindi lascio questa. Stessa cosa anche per l'SPU decoder. Su GPU invece andiamo a selezionare la nostra scheda grafica. Nella sezione render vi consiglio di selezionare Vulkan perché è l'opzione migliore. Se però avete dei problemi vi consiglio di ritornare a quello predefinito ovvero OpenGL. Vi consiglio di fare entrambe le prove perché dovrebbero funzionare entrambi ma Vulkan è un po' più veloce. Da qui selezionate la vostra scheda grafica, in questo caso eccola qui. Poi lasciamo tutto com'è e anche su risoluzione vi consiglio di selezionare l'HD anche se magari come nel mio caso avete uno schermo full HD. Questo perché ovviamente più aumentiamo la risoluzione e più il processo sarà grande e complicato da gestire. Ma poi fondamentalmente questo dipende dalle prestazioni del vostro computer. Quindi se avete un computer molto potente potreste anche provare a mettere il full HD. Poi vedete voi. Il resto vi consiglio di lasciare tranquillamente com'è perché non ci interessa. Clicchiamo quindi su save. A questo punto è arrivato il momento di mostrarvi come poter installare i giochi all'interno dell'emulatore. Purtroppo però non posso mostrarvi in questo video in quale modo potreste scaricare i giochi. Questo ovviamente per motivi che sapete tutti e soprattutto anche perché l'installazione varia da gioco a gioco. Come troviamo scritto anche sulla quick start guide che vi consiglio sempre di guardare perché trovate tante informazioni utili sull'emulatore e sui giochi. Ecco come vedete dalla sezione installing playstation free titles. Il modo tra virgolette di default è tramite file.pkg. Andando sull'emulatore e cliccando su file install.pkg. Successivamente però per installare il gioco è necessario anche avere il file.wrap. Eccolo qui e inserirlo in questa cartella ovvero devhd0home il nome del gioco xdata. L'altro modo tra virgolette di default è tramite blu-ray quindi tramite file.iso. Sempre su questa pagina poi nella sezione sottostante vi dice anche come poter trasformare i giochi dal vostro disco della PS3 in file avviabili tramite l'emulatore. Però ovviamente sappiamo che questa procedura è utile soprattutto a chi non ha giochi della PS3. Su internet non c'è bisogno che ve lo dica io ci sono tanti siti che vi permettono di scaricare i giochi. Una ricerca veloce su Google vi aiuterà ma io in questo caso non posso lasciarvi nulla in descrizione. Prima di fare qualsiasi cosa però mi raccomando andate nella sezione compatibilità. E qui potete vedere quali giochi sono perfettamente compatibili con l'emulatore. Perché ovviamente ancora essendo in fase alfa addirittura non tutti i giochi sono funzionanti al 100%. Qui trovate una leggenda dei giochi compatibili al 100% che sono ben 26%. La community comunque è molto molto attiva circa un paio di settimane fa era sotto il 20% ora siamo già saliti al 26%. E i giochi perfettamente funzionanti sono quelli in verde. Gli altri sono quelli che hanno eventuali bug oppure che non funzionano per niente. Quindi potete o cliccare su playable per vedere solamente i giochi che funzionano al 100% oppure potete cercare da qui il gioco che vi interessa e vedere se è funzionante. Per esempio uno dei miei giochi preferiti Call of Duty Modern Warfare 2 non funziona purtroppo come vedete se provo a cercarlo. Ecco qui che se scorri in basso Call of Duty Modern Warfare 2 è in game. Ha uno stato appunto giallo il che significa che ha molti bug e non è possibile giocarci al 100%. In questo caso io andrò a fare una prova con Alien Shooter, questo gioco che come vedete è in verde quindi playable. Ho provato effettivamente e funziona al 100%. Un gioco tra l'altro veramente vecchio a cui giocavo da piccolo e quindi mi ha fatto piacere riscoprirlo. In questo caso infatti io qui ho i file di Alien Shooter trovati appunto tramite una semplice ricerca su Google. E vi andrò a far vedere in questo caso come è possibile installarli tramite file .pkg perché Alien Shooter ha un file .pkg. Andiamo quindi ad aprire di nuovo il nostro emulatore, andiamo a cliccare su file e clicchiamo install.pkg. Da qui selezioniamo la nostra cartella di Alien Shooter, clicchiamo di nuovo sulla cartella e all'interno troveremo questo file di tipo .pkg. Quindi andiamo a selezionare questo file, clicchiamo su apri e partirà l'installazione appunto del nostro gioco sull'emulatore. Ok installato con successo, clicchiamo su ok. Come però vi ho detto prima ogni file .pkg deve essere accompagnato da un file .wrap. Altrimenti come vedete se provo a lanciarlo mi dà questo errore sulla console, ovvero can't find .wrap file. E infatti il file .wrap non è presente. Come vedete anche nella cartella da dove l'ho preso non c'è nessun file .wrap. Però come vedete c'è quest'altra cartella con scritto fix, con all'interno altri due file .pkg. E quindi mi è venuto in mente di provare a rinstallare questo file .pkg sopra l'altro e infatti funziona. Questo per dirvi che ogni installazione di ogni singolo gioco può essere diversa dall'altro. E quindi non posso mostrarvi in un video come è possibile installare tutti i giochi compatibili attualmente con l'emulatore. Come ho già detto in questi casi una veloce ricerca su google è la cosa migliore. Oppure se avete qualche errore specifico fatemelo sapere qui sotto nei commenti e cercherò comunque di aiutarvi. In questo caso per risolvere l'errore vado di nuovo a fare install.pkg selezionando il file con scritto fix. Eccolo qui clicchiamo su apri e poi vado a farlo di nuovo con l'ultimissimo file ovvero questo qui fix 4.21 clicchiamo il file installato. E a questo punto come potete vedere vado a lanciare il gioco per mostrarvi che effettivamente funziona. Eccolo qui facendo un doppio clic compariranno tutti questi compile che serviranno per lanciare il gioco. Voi non toccate nulla ed aspettate che finisca. Ed ecco qua ragazzi che finalmente il gioco è partito e potete vedere che funziona perfettamente. In questo caso vado a chiuderlo perché era una prova. Un'altra cosa poi veramente fantastica secondo me di questo emulatore è la possibilità di giocare tramite un joystick. Per esempio in questo momento come vedete io ho un joypad della xbox 360 quello che viene riconosciuto facilmente anche da windows 10 perché è appunto di microsoft. E in questo caso mi basta collegarlo tramite il cavo usb al computer prima di lanciare l'emulatore e posso subito utilizzarlo tramite il mio emulatore. Andando nella sezione configuration e poi cliccando su pads qui posso decidere appunto in che modo utilizzare il mio emulatore. Configuriamo ovviamente il primo giocatore player 1 in questo caso c'è keyboard quindi la nostra tastiera. Come vedete se mettiamo il mouse qui sopra per alcuni secondi compare una piccola tendina che ci dice quello che dobbiamo selezionare in base al nostro controller. Nel mio caso quello della xbox è compatibile con x input quindi basterà cliccare qui e poi possiamo o lasciare il profilo di default oppure cliccare su configura e da qui possiamo cambiare tutta la configurazione del nostro joystick. Potete capire che effettivamente viene riconosciuto perché se provo a muovere l'analogico per esempio quello in alto come vedete in basso a destra sul mio emulatore si muove quel pallino blu che mi dice appunto che è riconosciuto con successo e posso modificare tutti i parametri. Per esempio configuro il tasto L1 cliccando da qui il tasto L1 comunque selezionando x input con quello della xbox dovrebbe già essere tutto compatibile con la configurazione di default. Dopodiché clicchiamo su save per salvare i cambiamenti come vedete è compatibile anche con il dualshock 4 quindi quello della playstation 4 mentre quello della playstation 3 nel caso ne abbiate uno non so quale sia quello giusto neanche qui dalle informazioni ci dice qual è quello giusto comunque penso che sia lo stesso della xbox. Purtroppo però come sapete quello della playstation 3 non viene riconosciuto facilmente come quello della xbox su youtube o comunque su internet in generale trovate tantissime guide anche in italiano che vi mostrano come poter collegare il joystick della playstation 3 sul vostro computer e poterlo utilizzare proprio in questo caso come quello della xbox. Comunque funziona perfettamente io l'ho già provato con alien shooter ed è veramente fantastico quindi un altro punto a favore di questo emulatore è in grado anche di salvare tutti i progressi quindi se chiudete tranquilli non perdete assolutamente nulla basta che non cancellate la cartella completa del vostro emulatore perché qui su queste cartelle vengono salvati tutti i file di gioco più precisamente si trovano in devhdd0 game cliccate da qui il vostro gioco e trovate appunto tutti i salvataggi del gioco. Quindi non toccate questa cartella potete benissimo metterla per esempio tra i vostri programmi e creare un collegamento sul desktop del vostro emulatore in modo da giocarci quando volete. Per il resto ragazzi funziona egregiamente purtroppo solamente con alcuni giochi al momento ma come ho già detto vengono aggiornati di volta in volta anzi se volete potete anche provare voi qualche gioco e poi contattare gli sviluppatori dicendo se funziona bene oppure no. Quindi ragazzi questo era come poter installare l'emulatore della playstation 3 sul nostro computer. Come avevo detto anche ad inizio video è ancora in fase alfa quindi alcune cose devono essere sistemate tra l'altro anche molti giochi però credo che sia un progetto veramente fantastico e ringrazio gli sviluppatori per aver lavorato così tanto perché è una cosa che sinceramente non credevo sarebbe stata mai possibile e invece eccola qui. Non è una cosa essenziale se come me avete già una playstation 3 potete benissimo giocare lì però è comunque sia un qualcosa che volevo condividere con voi perché mi ha stupito tantissimo. Come sempre se il video vi è piaciuto ma soprattutto vi è stato d'aiuto vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi anche al mio canale passate su tutti i miei social soprattutto instagram trovate tutti i link qui sotto in descrizione vi tengo aggiornati su tutte le ultime novità e soprattutto la cosa più importante di tutte vi chiedo gentilmente di condividere questo video dovunque con tutti i vostri amici per aiutarmi a farvi crescere. E detto questo da FedeTutorial è tutto noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video. Grazie a tutti.